delle notizie del giorno che sono le visite mediche a Torino per Marco Borriello e allora torniamo dal nostro Paolo Aghemo, Paolo Il lungo inseguimento della Juventus a Marco Borriello si è concluso 16 mesi dopo il tentativo da parte di Beppe Marotta di portare Borriello a Torino prima del trasferimento dal Milan alla Roma Borriello di fatto sta passando le prime ore da giocatore della Juventus qua siamo al centro di medicina dello sport dove Borriello ha sostenuto la seconda parte delle visite mediche i test fisici prima Borriello è stato alla clinica Fornaca per gli esami strumentali un Borriello che arriva alla Juventus per rilanciarsi dopo che con il nuovo corso di Luis Enrique alla Roma di fatto non aveva trovato più spazio arriva con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto in questi giorni Borriello si allenerà al centro sportivo di Vinovo deve recuperare da un fastidio agli adduttori e si aggregherà al gruppo insomma ai nuovi compagni soltanto dalla prossima settimana dunque sarà a disposizione poi per preparare la sfida contro il Lecce prima la Juventus giocherà contro il Lecce e dal ritiro invernale tra Emirati Arabi e Arabia Saudita la Juventus si trasferirà direttamente a Lecce quindi solo dalla prossima settimana Borriello potrà allenarsi con i nuovi compagni Borriello che è il primo colpo di questo mercato di gennaio della Juventus Juventus che adesso va alla caccia di un difensore e il nome caldo ovviamente è quello di Casares proprio in queste ore e poi di un centrocampista Juventus che continua a trattare Pizzarro della Roma Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!